Allora, tanto si sente. Io, in piacere, Rebecca Fallati di Rete Valdera, volevo sapere, insomma, sapevate che avreste giocato contro una squadra abbastanza forte, quindi nel senso si sapeva che sarebbe stata una partita difficile? Sì, sì, sappiamo, insomma, il Cesena è una squadra di livello altissimo, una delle prime due o tre forze del campionato, sappiamo se sarebbe stata complicata, speravamo che la partita si sarebbe incanalata su altri binari, invece purtroppo abbiamo preso un gol la prima volta che loro sono scesi e poi piano, 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 anche nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo hanno fatto gol, poi dopo è stato complicato. Per quanto riguarda prima di Ancona, diciamo che avevate una difesa molto solida, avevate subito non molti gol e poi a Ancona c'è stato il 3-0 e quello di oggi può essere una replica di Ancona oppure è stato più che un errore della difesa, poca concretezza all'attacco? Cos'è? No, no, Ancona è stata una partita completamente diversa, Ancona non siamo praticamente mai entrati in campo, oggi abbiamo fatto la nostra partita, probabilmente nel primo tempo meritavamo molto di più noi, poi piano piano, insomma, alla fine il Cesena ha fatto tre gole, è inutile girarci intorno, se perdi 3-0 è giusto che vinca la squadra che ne fa tre. Meglio, martedì c'è subito la prossima partita, quindi diciamo che il riposo a questo giro è molto breve, è un pregio oppure è un difetto? No, beh, alla fine quando perdi spesso hai voglia di rimetterti subito in discussione, quindi va bene così, siamo contenti di giocare subito. Va bene, noi in bocca al lupo per martedì, grazie mille, gentilissimo, arrivederci. Bene, avete sentito anche le parole dell'allenatore del Ponte d'Era, io vi saluto e mi raccomando vi do appuntamento lunedì alle 20.45.